Sarà operativa a cominciare dal 12 marzo, l'11 febbraio verrà il Ministro dell'Interno a inaugurarla, a prendere visione del fatto che i lavori sono terminati, il personale è stato già assunto, sta facendo il rodaggio presso altre centrali operative anche a Roma, alternandosi nel lavoro in modo che quando entrerà in servizio dal 12 marzo, cominciando con i primi distretti e poi alla fine del mese l'intero Abruzzo e tutti i numeri di emergenza convergeranno su questo numero unico 112 e quindi la centrale entrerà pienamente in funzione. Certo è un'emozione vedere uomini, donne, giovani e meno giovani che hanno superato un concorso, che stanno superando una selezione, che hanno fatto la formazione e che sono pronti ad iniziare a lavorare e a offrire un servizio essenziale per i cittadini. Questo servizio salva vite umane, affronta i problemi prima che divengano tragedie, mette in campo le risorse dell'emergenza, da quella sanitaria a quella dei vigili del fuoco, a quella dell'ordine pubblico, carabinieri, polizia, insomma tutto ciò che è il mondo della sicurezza e della pronta risposta a ogni tipo di emergenza. Quindi è un'attività molto molto delicata, le infrastrutture sono state realizzate anche per considerare appunto la capacità di resilienza delle infrastrutture tecnologiche e telematiche perché la centrale sia sempre operativa e possa appunto funzionare anche in presenza di situazioni critiche come le calamità naturali che possono provocare danni strutturali. Abbiamo lavorato molto con le prefetture e il Ministero dell'Interno per giungere a questo obiettivo e quindi siamo naturalmente soddisfatti e orgogliosi di questo risultato.